ciao a tutti benvenuti nel terzo episodio della serie la perfezione di prima che qualcuno lascia un commento negativo voglio ricordare che non creo video per offendere anzi l'intento è proprio il contrario anche il titolo è pensato per avere un significato positivo rispetto al format originale inventato dal canale photoshop surgeon questi makeover sono più leggeri rispetto a quelli delle trasformazioni di genere quindi il risultato è meno evidente l'obiettivo è quello di modificare le proporzioni di un viso per raggiungere quelle ideali grazie alla guida della golden ratio mask ho ricevuto diverse richieste riguardo a lei quindi è il momento della bella ariana grande è nata in florida il 26 giugno 1993 e ha origini italiane comincia la sua carriera giovanissima a soli quattro anni partecipa allo show all that dal 2010 recita nella sitcom victorius nel ruolo di kat valentine ma è soprattutto la sua carriera musicale a renderla famosa nel 2013 esordisce con l'album yours truly mentre nel 2014 pubblica my everything e nel 2016 dangerous woman ecco fondatrice del gruppo musicale kids who care con il quale ha cantato diverse volte per beneficenza suo fratello maggiore frankie è produttore attore e youtuber vi ricordo che potete suggerirmi nei commenti chi vorreste vedere nel prossimo episodio accetto sia uomini che donne del mondo dello spettacolo dello sport della musica o di youtube come sempre sto usando photoshop cs6 la musica di sottofondo è your free di cma coverizzata da the guest music ora ve la lascio ascoltare meglio ci sentiamo alla fine ora ve la lascio ascoltare meglio ci sentiamo alla fine Grazie a tutti. Grazie a tutti.